Musica Noi siamo qui oggi a Caserta e inauguriamo la nostra sede è una sede in corso trieste quindi tutti possono venirci a trovare il problema mi rendo conto non è facile arrivare a Caserta dalla provincia di Caserta questa è una cosa incredibile, siamo nel secondo decennio del 2000 questa città ancora si regge sulle vecchie strade romane sicuramente questo non è possibile una cultura quella di terra di lavoro che è stata centro di spinta culturale per tutto il Mezzogiorno qui abbiamo la reggia di Caserta ma abbiamo anche centri romani importantissimi nella zona di Santa Maria Capovetere e questi non vengono raggiunti semplicemente perché non esistono strade ben collegate di chi è la colpa? La colpa sicuramente è anche della politica ma è di questa politica soprattutto degli ultimi 20 anni perché mentre prima veniva costruita una rete con intelligenza, con attenzione agli ultimi 20 anni si è pensato semplicemente a gestire e a tappare i cosiddetti buchi noi abbiamo bisogno di riprendere ad utilizzare i fondi strutturali, i fondi europei noi restituiamo troppi soldi all'Europa inutilizzati questi soldi devono rimanere qui devono rimanere qui per noi, per i cittadini della provincia di Caserta ma soprattutto per il Mezzogiorno